Un'altra brutta notizia per le auto elettriche Sull'usato i prezzi stanno calando vertiginosamente Continua a scendere il prezzo delle auto elettriche usate Leggiamo per bene questo articolo Arrivano ancora brutte notizie per le auto elettriche Secondo una ricerca i prezzi stanno calando in maniera molto forte Addirittura nell'ultimo anno si è registrato un calo del 31,8% Questo studio ha preso in considerazione le auto vendute Fra febbraio 2023 e febbraio di quest'anno Quindi auto usate tra 1 e 5 anni Le più colpite in assoluto sono la Chevrolet Bolt Che ha perso il 30,4% A seguire la Nissan Leaf e la Kia Niro Ma ascoltate bene il marchio più colpito in assoluto da questo calo è la Tesla Con un prezzo medio di 36.515 dollari Il calo medio è stato del 28,9% Ovviamente su questa situazione di Tesla influisce il forte calo dei prezzi imposti da Elon Musk Al momento anche se in maniera minore il valore delle auto elettriche usate Continua a scendere secondo gli esperti Attualmente in media questo tipo di auto usata costa 31.000 dollari Si tratta di un prezzo in linea con quello delle auto a combustione usate